Abbiamo la fortuna di avere dei parlamentari che stanno ben operando, hanno tenuto a precisare il loro lavoro, noi gli diamo atto e soprattutto li ringraziamo perché si è creata una sinergia tra la Regione e il Governo, grazie anche a Giorgia Meloni, che riusciamo ad avere delle risposte molto rapide. Quindi il nostro è l'auspicio di continuare attraverso questo solco che già hanno tracciato egregiamente i nostri parlamentari, ringraziamo della presenza il senatore Lucio Malan a suggellare ancora di più questi 100 giorni iniziando dall'Abruzzo con questa iniziativa perché non fanno altro che inorgoglierci. È ovvio che il tutto e secondo noi, così come è stato ribadito in conferenza stampo, il ruolo centrale e fondamentale è del Presidente Marsilio che sta ben operando e ha ridato e restituito dignità alla Regione Abruzzo.